La sua abitazione nell'Aurora Stras restò vuota, l'affitto fu pagato, da chi è impossibile saperlo, poi era ricomparsa, con lo splendore di un tempo, come se nulla fosse accaduto, anche se aveva un nuovo seguito. Quello che aveva esercitato con prodigalità lo esercitavano in modo professionale, piantato in asso da uno dei suoi amici, adesso faceva il giro con la sua Mercedes bianca, chiedeva prezzi astronomici e finanziariamente si è rimisa in sesto. Anche al netto delle tasse, tasse comunali, tasse statali, tasse militari, assicurazione per la vecchiaia e per i subpartiti, era considerato un chic andare a letto con lei, inutile diventare epico. Voglio solo dire che una volta si presentò da me, verso le due di notte bussò la porta della mia abitazione nella spiga del gas. Ci volai giù dal divano, su cui stavo dormendo, pensai che fosse l'acchia, accesi la luce, aprì e la entrò. La finestra era semi aperta, la stanza gelida, era metà febbraio. Appesa la tapizzeria scadente, c'erano sempre le foto ritagliate del mio bacio. Alla sedia, accanto alla scrivania, i miei vestiti, sulla poltrona, il mio capotto.